Tonino D'Ambrosio, avvolto in una coperta ed in bicicletta, cosa succede? Che succede? Noi nella Valle del Sabato abbiamo l'inquinamento, nel mese di dicembre in pochi, in una ventina di giorni abbiamo fatto 12 sforamenti, per cui vi ricordo che c'era una centralina Arpac che l'ha rilevato, mi sembra che non ci sia più, si vede che non serve più oramai, meglio toglierla che... E allora mi sono andato alla bicicletta perché dice che le macchine non devono circolare, vi prego, Pininfarina, Cambio Scimano a Sette Marce, e visto che si dice che sono i caminetti che ci inquinano, mi sono armato di coperta, che volete fare? Quindi lei a casa ha spento anche il caminetto? Certo, perché il sindaco di Montefreddo ne ha detto che l'inquinamento viene dato dai camini che si accendono a Montefreddo, solamente che noi non abbiamo neanche il metano, come cazzo ci dobbiamo riscaldare, e allora con la coperta. Lei fa di necessità virtù, in realtà... In questi tempi di tristi un po' di risparmio fa sempre bene, è solo che vogliono risparmiare anche sulla nostra salute, ricordo sempre che il sindaco deve essere quello che deve tutelare, la salute dei cittadini, abbiamo sforato 12 volte, poi la centralina mi sembra che si ha sopportato perché è meglio toglierlo, ma come la mettiamo a nome? Allora, lei dice, soprattutto una cosa, abbiamo sforato in 20 giorni, nel mese di dicembre, lei ci ha ricordato che è stato il periodo più piovoso. Sì, è piovuto sempre, normalmente quando piove gli agenti inquinanti non ci dovrebbero stare, invece c'erano, infatti è superato. Visto che Avellino ha preso dei provvedimenti, penso circa con 10 sforamenti quando eravamo al tempo, da noi queste cose... Perché le aziende, ricordo sempre le parole del sindaco che ha detto che alla comprensione di servizi circa l'ampliamento dello stir, le aziende, gli impianti vanno tenuti in allenamento, quindi si stanno allenando come farci morire nel più breve tempo possibile. La sua richiesta qual è? La nostra richiesta è che ci sia un poco di attenzione, un appello che faccio anche alla politica, visto che è tempo di elezioni. Chi vuole i nostri voti ci faccia, ma non il chiacchiere a vacante, promesse serie e noi siamo anche per dargli una mano.